Mi amo, tu sei morto di Milano, quello sembra sopra il cuore, rappresenta il primo amore. Te lo progresso da un bambino, e sempre ti scala vicino. Ma tanto adesso, ovunque andiamo, c'è la curva di Milano. Buonasera a tutti dall'algoritmo di Inter4Passion. Come sempre vi chiediamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirci su tutti i social qui in descrizione. Inoltre per chi volesse abbonarsi o entrare nel nostro gruppo Whatsapp, basterà mandare una mail a inter4passion-intercons.eu Così il burui ci vi inserirà all'interno del gruppo. Vi chiedo gentilmente di andare a vedere la lezione, perché così bisogna chiamarla, la lezione di economia e finanza, portata qualche giorno fa, se non ieri, dal nonno di Inter4Passion. Quindi, prima di sentire, di ascoltare più che altro, sto audio portato dal sottoscritto, vi chiedo prima di ascoltare quello che ha detto il nonno, che sono parole sacro-sante. È questo che deve fare una società. Autofinanziamento, sostenibilità, non dipendere dai soldi del proprietario. Questa è l'unica arma per fare in modo che vi sia un calcio, un business sostenibile su tutti i fronti. Arriviamo al dunque. Quello che ho sentito qualche mesetto fa su Screener, adesso lo sto ascoltando su Bastoni. Oddio mio, non rinnova nemmeno lui. E adesso che si fa? E adesso che si fa, ragazzi, ma la questione Screener non vi ha insegnato nulla? Chiedo per un amico, non vi ha insegnato nulla la questione Screener. I giocatori vanno e vengono, l'Inter rimane sempre. Si sa che l'Inter ha un monte, un tetto in gaggi, che non può superare. Se Bastoni vuole rimanere, rimane tranquillamente. Tranquillamente. Sicuramente chiederà un aumento di stipendio, che penso l'Inter gli offrirà tranquillamente. Però sa che non può sforare determinate cifre. Quindi, come vale la cosa per Screener? La stessa cosa, vale per Bastoni. Se Alessandro Bastoni ci tiene e vuole rimanere all'Inter, tranquilli, che rinnoverà. Non c'è problema. Se no, per favore, lasciamolo andare. Lui, come tutti gli altri componenti della Rosa. Se se ne vogliono andare, è giusto che se ne vadano. Sono professionisti. Non viviamo più nel mondo dei facchetti, dei mazzola, dei zanetti. Adesso c'è la legge Bosman. Dagli anni Ottanta, fino agli anni Ottanta più o meno. Legge Bosman. Stiamo prendendo sempre più la piega dello stile NBA. Dove guadagnano molto di più rispetto a qua. Quindi, ragazzi, trattiamoli come professionisti. Se il giocatore vuole rimanere, rimane. Se no, la porta è quella. Il proprietario va e viene. Il dirigente va e viene. L'allenatore va e viene. Il giocatore va e viene. Il magazziniere va e viene. Va via o viene. L'Inter rimane. Punto. Questo è l'importante. Il bene dell'Inter. Di fare la maglia. Noi siamo tifosi. Il nostro compito è quello di sostenere. Di sostenere questi colori fino alla morte. Fino alla morte. E' per questo che noi la difendiamo contro canali YouTube. Che fanno solo... Canali YouTube e non solo. Anche giornalisti. Diciamo, quelli che ne parlano male. Ora... La maggior parte... Cioè, la maggior parte dei giornalisti sono tutte persone per bene. Poi c'è sempre quella minoranza che... Ma è home in ogni ambito? Attenzione. Non è un attacco verso nessuno. No, perché è sempre un attacco. Non è un attacco assolutamente. Intanto saluto, ovviamente, Marco Barzaghi, che è uno che la difende l'Inter a 360 gradi. Questo è per far capire che voglio mettere in chiaro che non è un attacco contro nessuno. No, perché sembrava un attacco. Assolutamente non è così. E per far capire che comunque la difendiamo contro tutto e tutti. Anche contro chi spara fake news. Io ricordo a gente che oramai è da due anni, che parla male di Tizio Caio e Sempronio, che questi qui basano il tutto su due argomenti. O parlare male di uno, che può essere il proprietario, l'allenatore, il dirigente, il giocatore. O parlano male di altri canali. Sempre così hanno fatto e sempre così faranno. Gli scemi siete voi che li seguite. Siete voi che gli date notorietà. Questi sono da due anni che vi prendono per il culo e vi continueranno a prendere per il culo. Perché voi gli date views. A loro importa di voi solo le views, gli iscritti e perché no. Se fate qualche donazione, a loro fa pienamente comodo. Chiedo sempre a qualcuno di essi che secondo me ha un gran talento come showman. Perché veramente, ragazzi, non lo sto prendendo per il culo. Non lo sto prendendo per il culo. Nessuno per me veramente può sbancare, può fare bene. Può guadagnare molto di più là rispetto a parlare di stronzate su YouTube. Per me deve fare lo showman. Punto. Devono fare gli showman e sono bravissimi a farlo. Perché intrattengono tot persone. E questo è un merito. Perché vuol dire che sanno fare bene quella determinata cosa. È giusto elogiarli come è giusto criticarli quando dicono un mucchio di stronzate. Con questo è tutto. Vi auguro buona giornata all'algoritmo. E ricordatevi sempre. Tutti vanno e vengono. L'Inter rimane. Tutti vanno e vengono. Tutti vanno e vengono.